Quarto giorno Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione, e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia. O misericordiosissimo Gesù, che sei la luce del mondo intero, accogli nella dimora del tuo pietosissimo cuore le anime dei pagani che non ti conoscono ancora. I raggi della tua grazia li illumine, affinché anche loro assieme a noi onorifichino i prodigi della tua misericordia e non lasciarli uscire dalla dimora del tuo pietosissimo cuore. La luce del tuo amore illumini le tenebre delle anime, fa che queste anime ti conoscano e glorifichino con noi la tua misericordia. Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime dei pagani e di coloro che non ti conoscono ancora, e che sono racchiuse nel pietosissimo cuore di Gesù. Attirale alla luce del Vangelo. Queste anime non sanno quale grande felicità è quella di amarti. Fa che anche loro glorifichino la gelosità della tua misericordia per i secoli dei secoli. Segue la coroncina alla Divina Misericordia.